Un incontro delle cooperative per ragionare sulla prossima legge di stabilità, alcune proposte da formulare al senatore Caleo. Noi principalmente gli abbiamo chiesto alcune cose che non riguardano soltanto il mondo della cooperazione. Abbiamo fatto un ragionamento per esempio sulla distribuzione dei farmaci. Abbiamo chiesto al senatore Caleo di farsi promotore di un'iniziativa sulla normativa sugli sprechi. Il tema però è capire se c'è un incentivo che significa riduzione della tassa sui rifiuti. Abbiamo fatto un ragionamento sull'agricoltura dicendo che va bene la cancellazione dell'IRAP per le aziende agricole ma bisogna stare attenti a non far pagare l'IVA piena a quelle aziende diciamo come si va prospettando il disegno di legge. Noi stiamo costruendo un po' in tutto il paese il working buyout che è sostanzialmente la possibilità di rimettere in moto aziende che andavano depauperandosi. Abbiamo presentato in questi giorni in Parlamento oltre 100.000 firme per fare una legge di iniziativa popolare di supporto alla modifica del regime delle cooperative, cioè la cancellazione di tutte quelle false cooperative che non sono soggette a revisione. Distribuzione dei farmaci, lotta allo spreco, un impegno delle cooperative in questo senso e non nasconde neanche un risparmio che può venire da una lotta alle false cooperative. Queste sono le richieste principali che sono state poste stamattina in questo incontro. Semplificare, unire le forze credo che sia un gesto importante e soprattutto utile. Per quanto riguarda invece le proposte mi pare di capire che c'è una piattaforma molto seria, condivisibile. sullo spreco alimentare abbiamo presentato emendamenti in questa direzione, c'è un lavoro che dovremmo fare per allargare la vendita dei farmaci di tipo C anche alla grande distribuzione ma liberalizzarli con risparmio per i cittadini di 400-500 milioni a livello nazionale. Le ultime due cose che sono venute fuori molto interessanti, due disegni di legge che io mi sono proposto di presentare l'uno sulle false cooperative, c'è stata una raccolta di oltre 100.000 firme su tutto il territorio nazionale, c'è bisogno di una legge che agisca e controlli la nascita di queste false cooperative che procurano un danno d'immagine alla vera cooperazione ma anche allo Stato perché rende vana la ricerca della verità e della trasparenza e l'altra sulle cooperative di comunità. Guardi, noi viviamo in una provincia dove il nostro entroterra deve essere ripopolato, ci devono essere dei servizi, devono rinascere e una legge sulla cooperazione di comunità è un altro impegno che mi sono preso nei confronti dell'ACI.